Martedì 28 luglio alle ore 20.45 il Cineforum Pro Cultura conclude il suo ciclo di proiezioni estive con il film Benvenuti a Marwen di Robert Zemeckis. Il film realizzato nel 2018 è l'adattamento cinematografico di un precedente documentario incentrato sulla vita e di lavori dell'artista e fotografo Mark Ogankamp che perse la capacità di parlare e di camminare ma soprattutto la memoria dopo che subì un violento pestaggio che lo ridusse in coma. Di questa storia vera il film di Robert Zemeckis esplora tuttavia un lato molto particolare. Per far fronte al proprio trauma infatti Mark costruisce un villaggio in scala in stile seconda guerra mondiale chiamato Marwen dove ricreerà le avventure, le esperienze e gli incontri della propria vita. Una vicenda che parla della nostra difficoltà a superare i traumi, le ferite più gravi del passato è che il film elabora attraverso uno stile visionario e sperimentale in piena linea con la poetica del suo regista che ricordiamo è anche l'autore di film che sono entrati nell'immaginario collettivo come Ritorno al futuro, Forrest Gump, Cast Away. Vi aspettiamo allora martedì per questo ultimo film estivo insieme. A presto. Grazie.